Buonasera, ben arrivati, siete un manipolo di abiti, sono arrivati qui nonostante i ritardi dei treni, i ritardi dei aerei, benvenuti, grazie per essere qui, stiamo aspettando l'arrivo qui, abbiamo perso le tracce, forse sarà su qualche treno, abbiamo avuto qualche ritardo, Adele Ghirri invece c'è, noi la salutiamo, è qui nel pubblico, è una figlia di Luigi Ghirri. Vorrei cominciare la serata ringraziando un po' di persone, vorrei ringraziare innanzitutto gli artisti, perché questa è una mostra che è stata resa possibile anche grazie al loro contributo, nel senso che è una mostra low budget, gli artisti ci hanno aiutato impegnandosi con grande passione, portando anche personalmente le opere al museo come accadeva a Rigoli negli anni Ottanta, quando c'erano molti meno fondi, quando si facevano le cose molto interessanti in questo luogo. Poi vorrei ringraziare la famiglia Ghirri dell'archivio Ghirri, perché ci ha dato la possibilità di organizzare una mostra, credo molto interessante, poi parleremo anche del progetto espositivo. Vorrei ringraziare Elena Re, che studia da anni, in tempi non sospetti, perché adesso sapete che Luigi Ghirri è l'artista, il fotografo caldo del momento, ha partecipato all'ultima Biennale Venezia, ci sono importanti gallerie interessate al suo lavoro, però in tempi non sospetti, insomma Elena Re ha fatto un lavoro di ricerca importante su Luigi Ghirri e vedrete il risultato in mostra. Vorrei ringraziare anche Massimo Minini, è sempre un grande piacere averlo tra noi, Massimo, non è solo un gaberito straordinario che gli ha contribuito a fare un pezzo di storia dell'arte italiana internazionale contemporanea, ma è anche una persona, una sorta di modello comportamentale, di essere umano al quale siamo molto affezionati. E poi, devo dire, come il buon vino, invecchiando Massimo Minini sta diventando sempre più buono, come sapete scrive, scrive di tutto, scrive d'arte, scrive poesie, dipinge, insomma la sua personalità esplosa, sta esplodendo, bisogna trattenerla infatti. E con Massimo Minini faremo questa passeggiata manica lunga, parlerà di fotografia, è uno dei galleristi che si è occupato con più coerenza di fotografia italiana e quindi è un grande esperto di fotografia, io credo, e tra l'altro ci ha anche aiutato a realizzare questo progetto espositivo. Vorrei ringraziare anche il personale del museo che in un momento, come sapete, insomma c'è un momento di grande difficoltà economica e devo dire che nonostante questi sconquassi, le persone qui continuano a lavorare con passione e con dedizione e con amore dell'istituzione, questo è molto importante e molto bello, significa che questa è veramente un'istituzione, che questo museo nonostante la difficoltà economica continua a lavorare e continua a dimostrarsi un'istituzione radicata nel territorio. Io non credo che ci siano uguali in Italia, non credo che ci siano uguali in Italia, non credo che le musei hanno questa storia e che abbiano questa capacità di impegnità, perché le istituzioni, come dire, le istituzioni solide resistono e continuano a lavorare anche in momenti di difficoltà economica, perché sono appunto radicati nel territorio e sono delle, come dire, hanno la forza delle grandi istituzioni, per cui ringrazio il personale del museo e vorrei anche ringraziare, insomma non l'abbiamo fatto altre volte, invece credo sia giusto farlo, vorrei ringraziare attitudine e forma il gruppo di persone che installano le mostre del museo, sono dei professionisti, lavorano in tutto il mondo, ma per questo museo lavorano come se fosse, vuoi dire, una cosa che gli appartiene, lavorano con grandissima dedizione e quindi le mostre sono possibili anche grazie a loro. Dicevamo che questa è una mostra low budget, lo è, nel senso che questo è un modo già di reagire alla situazione economica disastrosa che, come dire, mette in difficoltà l'intero paese, mette in difficoltà tutte le istituzioni culturali, quindi è una mostra che costa, non so, un quinto, un sesto delle mostre che genere, quindi sono state organizzate specialmente nella Manica Lunga, però è una mostra low budget, nel tempo stesso anche una mostra ambiziosa, nel senso che, come dire, vorremmo cominciare a delineare una possibilità di sviluppo delle attività in questa fase di crisi. Perché? Perché da un lato, anche con la mostra di ontani, che tra l'altro inaugura la prossima settimana in Francia, la nostra mostra, viaggia in Francia e poi entra in Svizzera, con la mostra di ontani, con questa mostra qui, nella quale vedrete Luigi Irri, Ettore Sonsas, Paolo Pellion, Paolo Mussassartor, una serie di artisti italiani. Con questo tipo di progetti vogliamo, da un lato, come dire, ottimizzare le risorse, dall'altro vogliamo valorizzare l'arte italiana, promuovere l'arte italiana, che è una cosa assolutamente importante che in tempi di lacche e grasse forse non si è fatto e che adesso credo che sia fondamentale fare, abbiamo degli artisti, lo vedrete, questa sera è Marica Lunga come Luigi Irri che hanno anticipato il lavoro di alcuni fotografi contemporanei straordinari, per cui abbiamo una serie di personalità importantissime sulle quali bisogna lavorare. Bisogna quindi anche valorizzare le risorse di questo territorio straordinario, non sono io a dirlo, ma a Torino si è fatta la storia dell'arte italiana e internazionale negli ultimi 40-50 anni, anche prima sicuramente. E poi soprattutto, come dire, questo progetto vuole dire una cosa, vuole cominciare anche a dire una cosa, che non esiste una storia dell'arte. Noi vogliamo raccontare diverse storie dell'arte. Non so se vi caso anche a voi, però trovo piuttosto scandaloso e noioso viaggiare in Europa e vedere nei musei le stesse mostre, gli stessi artisti, gli stessi nomi. Credo che questo sia demenziale, nel senso che si utilizzano risorse pubbliche di diversi paesi per mettere in scena la stessa storia dell'arte, ma la storia dell'arte è un fatto morale, è un fatto, come dire, lineare che può essere, ha scritto un gruppo di pochi. Allora io credo che adesso, oggi, i musei abbiano il dovere di raccontare diverse storie dell'arte. Questo non possono farlo i collezionisti potenti che mettono in scena così, mettono in scena delle mostre muscolari. Non possono farlo quei musei che lavorano su un'idea di spettacolarizzazione dell'arte, ma forse possono farlo alcune istituzioni come la nostra. Ecco, vorremmo fare in modo di raccontare diverse storie dell'arte, quindi parlare di diverse personalità e vorremmo dedicare questa attività, quindi ad un tipo di mostre che, come dire, non si basano solamente sull'esposizione di opere. Credo che anche questo sia un aspetto che vada in qualche modo superato. I musei non possono esporre solo opere d'arte e le mostre non possono più essere mostre di soli oggetti artistici. Io credo che un museo non debba, come dire, il visitatore nel museo non deve fare l'esperienza della mostra, non deve andare al museo per riconoscere dei nomi. Il visitatore deve andare al museo per fare un'esperienza intellettuale, quindi per vedere delle cose nuove, per mettere in relazione alle proprie conoscenze. Quindi il museo dovrebbe con coraggio, autorevolezza storiografica, come dire, andare in profondità e affiancare, se possibile, ad artisti noti, a star internazionali, alle cosiddette blue sheep, ai nomi più noti, dei nomi meno noti, anche dei nomi di anonimi. Il museo dovrebbe affiancare alle opere d'arte altri tipi di oggetti, documentazioni, perché la storia dell'arte non, come dire, nasce in relazione sempre al museo alla società, a un contesto storico determinato, per cui è importante ricostruire anche, come dire, l'ambiente all'interno del quale poi si svolgono, si sviluppano i linguaggi della contemporaneità. Per questa ragione vedrete, manica lunga, un importante gruppo di documenti legati alla storia di Luigi Kirri. Non vedete solo le opere di Luigi Kirri. Anche la prossima mostra, quella che dedicheremo a Piero Gidati, sarà una mostra nella quale la parte documentaria avrà un ruolo molto ampio. Vogliamo, come dire, prospettare anche un nuovo modo di fare le mostre. Credo che questo possiamo farlo anche con un budget molto basso. È fondamentale, come dire, muoversi verso quella che potremmo definire un'avventura intellettuale. Dovremmo cercare di fornire al nostro pubblico la possibilità di compiere un'esperienza. E dobbiamo ricordare soprattutto una cosa, i musei, e quando parlo sulla questione delle polemiche riferenti sul numero di visitatori riguardo ai musei, i musei non sono i luoghi dello spettacolo. Cioè qualche museo è il luogo dello spettacolo. Vengono costruiti musei come oggetti spettacolari per attrarre il pubblico, per attrarre turisti, bambini, per il posto per tutto. È giusto che la realtà sia complessa e differenziata. Ma i musei, e questo è un lascito della rivoluzione francese, i musei sono innanzitutto luoghi della democrazia e dell'educazione. Questo è un fatto fondamentale. Dobbiamo ricordarci che, come dire, la programmazione di un museo forse andrebbe accantonato tutto l'aspetto strategico dell'esibizione di forza, della concorrenza tra le istituzioni internazionali e dovremmo invece spingersi verso una cooperazione, una condivisione di patrimoni, di esperienze, di idee. Questo è necessario farlo. Se le istituzioni culturali europee saranno in grado di fare questo, significa che la crisi sarà arrivata e spero sarà passata, come dire, lasciando qualche cosa di positivo. Spero che l'augurio è che questa crisi non lascia in piedi solo un certo modo di parlare di arte. Quindi i musei devono dovrebbero produrre racconti, dovrebbero produrre storie, ed è per questo che stiamo parlando, ed è per questo che visiteremo la mostra con i nostri importanti ospiti che adesso vado ad introdurre. Celebriamo oggi, febbraio 2012, il ventennale della scomparsa di unicini. Ecco, un altro caso è un demasco. Una personalità straordinaria che durante vent'anni, dai primi anni 70, negli anni 80, ha fatto un lavoro straordinario, scattando forse più di 150.000 foto. Scattando 150.000 foto. Per tutti gli anni 70 ha fatto un lavoro straordinario sulla fotografia con un approccio strettamente concettuale, perché frequentava gli artisti, era amico degli artisti, non si forma come fotografo, non entra mai in una camera oscura. E fa un lavoro veramente straordinario, anticipando tantissimi aspetti della ricerca artistica contemporanea. Ecco, Ghirli è morto, scomparso, quasi sconosciuto, inosservato. Questa è un fatto grave, una responsabilità grave anche per le istituzioni che operavano quando Luigi Ghirli lavorava. Mi raccontava Rigo Ghirli, purtroppo ancora non è arrivato, ho conosciuto. Ecco Rigo Ghirli. Sei arrivato. No, mi raccontava Rigo Ghirli, che è lo storico stampatore di Ghirli, e quando stampava le immagini di Ghirli, anche a lui piacevano molto, però diciamo, non le capivo, nessuno capiva quello che faceva in quel momento Ghirli. Ci piacevano, ma non sapevamo perché, perché in effetti Ghirli faceva un lavoro straordinario, proprio di avanguardia, sull'idea proprio del meccanismo della visione, più che sull'oggetto fotografico di per sé. Anzi, dell'oggetto fotografico forse era poco rispetto all'opera ultima, ma forse era anche poco interessato. Qui, in un suo scritto, però dice, non sono interessato a fotografici per il collezionismo delle cose, per me, per un approccio, un'avventura intellettuale alla fotografia. Comunque, siamo qui per celebrare e fendare questa straordinaria personalità. Finita questa presentazione andremo tutti in manica lunga con i nostri ospiti a sentirli parlare di fronte alle opere della nostra. E vorrei cominciare con Marco Berpoliti, che è uno scrittore critico. Avrete letto diverse cose di Marco Berpoliti. Mi viene in mente recentemente questo articolo che si intitola The End, Berlusconi e Cattela, nel quale avanza un curioso parallelo tra i due, un articolo molto interessante, Berlusconi e Cattela, Cattela che esce dal sistema dell'arte. Berlusconi anche lui esce, forse ritornano, non esce mai, magari tornano, però è interessante, se non l'avete letto questo articolo è molto interessante, cercate di leggerlo. Vorrei iniziare per passare la parola a Berpoliti citando tre righe di questo articolo che gli scrisse per la stampa nel 2010, un articolo molto interessante nel quale dice, Berpoliti dice, il fotografo emiliano non ha denunciato nulla, neppure lo scempio del paesaggio, ma ha fatto qualcosa di più, di cui oggi abbiamo molto bisogno, ci ha insegnato a guardare il mondo. Voglio dire che è una grande impresa, insomma, è anche un grande statement, direte, insegnare a guardare il mondo. Allora ti chiedo in che modo, per dirvi, ci fa intuire che il mondo può essere guardato in modo diverso. Prego. Beh, se dovessi usare un'espressione, insomma, che riassume un po' il lavoro di Luigi, che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare così un po', userei un'espressione per quasi niente e la metterei subito a fianco di una frase della sonda che quando uscì suonò, come dire, come il colpo di Gong, aveva scritto la sonda, i tramonti, disgraziatamente assomigliano a fotografie. Tutto assomiglia, assomiglia, assomigliamo al già visto. Ecco, qui entra il lavoro di Luigi, di quel quasi niente. Sono tre cose soltanto che voglio dire. Una che mi pare evidente, insomma, ha proprio ripulito lo sguardo. E questo è un lavoro, se vogliamo dire, da filosofo. Il filosofo dell'immagine. Ci può fare la filosofia dell'immagine con le parole, ma anche con le immagini stesse. Ce ne sono vari esempi. È giusto quello che tu dicevi, insomma, che l'arte, gli artisti hanno avuto, come dire, una definizione romantica, ma ci sono molte forme di arte e di artisti. Chi è un artista? Un artista che usa la fotografia per fare un altro discorso. Ha ripulito il nostro sguardo. Io penso, per esempio, a uno dei lavori, quando si è messo a fotografare i propri libri e i soprammorti di oggetti intorno a casa. Cosa fa? Non ha fotografato, e questa è la seconda cosa che voglio dire, non ha fotografato la realtà, ma quelle che noi chiamiamo le apparenze, ovvero tutto ciò che è visibile, che si fa vedere e che è percepito dai sensi. Questo è un altro aspetto molto importante, cioè in Ghiri non c'è solo la vista. Una delle cose più straordinarie della sua fotografia è l'atmosfera. Sono tutti atmosfere, paesaggi in questo senso. Nelle sue foto c'è un elemento che potremmo definire tattile, che è stato come un senso molto ampio, anzi potremmo dire che c'è il senso della pelle, di più. Il senso della pelle che non è soltanto, diciamo, un punto e il confine estremo del nostro corpo, un'interfaccia tra noi e il mondo, ma è la pelle stessa del mondo. La cosa che ha fatto di importante, a mio avviso, è di abolire il potere dell'analogo, che è la cosa che ci ha tormentato, direi, negli ultimi 30-40 anni. Con lui siamo usciti per un tunnel molto piccolo, perché il lavoro di un artista è spesso veramente un piccolo buco, un piccolo foro che viene fatto nell'apparenza, attraverso cui è difficile uscire. Bene, lui ha fatto questo foro per farci uscire dal regno dell'analogo. Ad esempio, le foto concettuali, è giusto, insomma, è stato messo in luce variamente, insomma, tutto il rapporto con i concettuali modenesi e gli artisti che lavoravano a Modena in quell'epoca negli anni 70. Ecco, per esempio, le foto concettuali, chiamiamole pure così, le simmetrie, le porte, l'alzalene, i doppi oggetti, indicano veramente qualcosa in quel momento, intuito da Luigi, in un'uscita appunto dall'analogo. Spostava sulla simmetria, sul doppio, ma non il doppio nel senso romantico del tema, ma una doppia misura delle cose. Era uno spostamento di sensibilità. La terza e ultima cosa è che, insomma, di fronte alla sua fotografia io percepisco un elemento etico. Di che etica si tratta? Credo che sia l'etica del cuore. Pensandola come lo pensavano in antichi, cioè, non i sentimenti. C'è qualche elemento sentimentale intorno alla fotografia di Ghiri, qualcosa che ha a che fare con la nostalgia, con i sentimenti in generale, ma direi che l'etica è proprio l'etica del cuore. Proprio come una frase che Ghiri ha citato spesso, le immagini sono enigmi che si risolvono con il cuore. Perché il cuore è la sede della memoria. Forse l'altro elemento, diciamo, che definisce questa eticità è il rapporto con la memoria, che non è l'analogo. La memoria è sempre antico e sempre nuovo allo stesso tempo. La memoria non è il passato, è anche il futuro. E in Ghiri c'è questo aspetto duplice. Sono luoghi che hai già visto, ma non nel senso che diceva la Sopran dell'analogo, ma che hai già visto perché sono tuoi, ti appartengono. E sono luoghi che ancora devono venire. Il già e non ancora. Le immagini sono enigmi che si risolvono con il cuore. È una frase enigmatica a sua volta. Come si fa a risolvere con il cuore? È l'infanzia. Tutto in Ghiri ricorda questo. Sillabari, aplanti, cartoline, quadri, maffamondi, colori. Ebbè, colore è molto importante. E tutto questo appartiene a che cosa? Non al mondo interno. È un lavoro sul mondo esterno, ma proprio in quel senso che dicevo prima, non come una forma di realismo, ma come una forma di immaginazione. Le libri si sciolgono attraverso l'immaginazione. La forza del lavoro artistico di Ghiri, quel buco che apre nella parete, al di là del regno dell'analogo, è proprio del farci immaginare. Grazie. Sì, e questo Ghiri lo fa, come dicevi giustamente tu, senza porsi i problemi classici, diciamo, del fotografo, come ad esempio le dimensioni della stampa, le dimensioni dell'artofo. C'è sempre un approccio appunto legato al pensiero e ai meccanismi della visione, come abbiamo detto. Infatti vedrete nella manica lunga che appunto alcuni importantissimi fotografi contemporanei badano molto insomma al grande formato, alle grandi dimensioni. Invece questo non è mai stato assolutamente un problema per Ghiri. E infatti vorrei introdurre, vorrei domandare una cosa, Rigoghi, e vorrei introdurre l'intervento di Arrigo citando proprio uno scritto di Luigi Ghiri a tale riguardo, nel quale dice, Luigi Ghiri scrive, ho sempre affidato sviluppo e stampa a laboratori standard. Non mi ha mai interessato la produzione di oggetti da collezionismo. Il gesto estetico e formale è già compreso in quello di fotografare. Emerge una personalità per la quale il momento dello scatto, il momento nel quale l'intelligenza, la sensibilità inquadra un'immagine, è il momento del compimento dell'opera. Quello che viene dopo è quasi paradossalmente individuente rispetto a questo pensare per immagini che precede, perfino la realizzazione dell'opera, che è appunto la stampa dell'opera. Poi volevo chiedere a Rigoghi, come dire, qual è stato il tuo rapporto con Ghiri e qual era appunto la discussione riguardo a questi fatti, quando riportava questi oggetti. Mentre stavi arrivando dicevo che mi raccontavi, l'ho trovato molto interessante, che in fondo faceva un lavoro talmente tanto nuovo in quel momento, così che, come dire, era un lavoro che mi piaceva, mi attreva, ma in fondo non comprendevate pienamente. Se ci vuoi commentare questo, prego. Comunque, ho avuto il piacere di lavorare per circa 25 anni con Luigi, per cui ho visto praticamente nascere, per me è stato un onore, mi emoziona ripensare appunto questo periodo che abbiamo passato insieme. E' arrivato in laboratorio così tutto molto umile, molto tranquillo, così, una persona quasi insignificante, una persona meravigliosa perché era umile, ma con una potenza interiore impressionante. A quell'epoca c'era Franco Fontana che era considerato uno dei più bravi in Italia, mentre Luigi non era considerato ancora nessuno. e le foto di Franco Fontana erano foto estetiche, molto pittoriche, e invece questo, chiamiamolo questo tizio che era arrivato, faceva cose strane, no? Io e mia moglie dicevamo, ma guarda, che foto fa questo qua? Non sono foto classiche, foto pittoriche, foto che piacciono subito. E allora ci siamo guardati i miei mogli del tempo, no? Senza non si diceva, ma a te piace questo? Ti diceva, ma a te piace tanto? Ma perché? Non lo so, anche io non lo so, però mi piace tanto. E così abbiamo visto questo vulcano, perché Luigi era un vulcano, aveva una forza interiore impressionante, un'intelligenza straordinaria, che ho visto in Adele, sua figlia, stessa cosa, anche lei ha un'intelligenza fotografica impressionante. Dico questo, non da critico, perché non sono un critico e non mi riferisco, è totale, però ho visto nascere quasi tutti gli artisti in quel periodo, perché la secolo di Miri sono arrivati tutti gli artisti italiani, i più notti di oggi, e quindi ho potuto vedere le differenze tra uno e l'altro e fare delle considerazioni. Di Luigi si può dire che ha dato tutto se stesso per la fotografia, senza prospettive, perché allora la fotografia era povera, non c'era collezionismo, non c'era niente, si spendevano solo soldi. Luigi ha dato la vita in questo senso che ha venduto la casa per la fotografia, per scattare, per fare cataloghi, per fare qualche mostra, e senza nessuna prospettiva è andato avanti con una costanza impressionante. Mi ricordo che una sera siamo andati da due critici che erano in casa di Fontana, che per tutta la sera hanno conosanato Fontana e Luigi aveva Atlante, che gliel'aveva presentato, e questi l'hanno così denigrato, l'hanno proprio distrutto, ha detto, con cosa continui a fare foto, ma che foto fai, cos'è sta roba? E mi ricordo che lo scimmo, che era l'una di sera, di notte, e Luigi mi guarda e dice, rego, sai cosa ti dico, quei due critici non capiscono niente di fotografia, ovvio così, questa ostinatezza, ostinazione, proprio questo, lui sapeva quello che faceva e ha sempre tirato dritto senza guardarsi né a destra né a sinistra, questa è la sua forza, avere un'intelligenza visiva impressionante, lavori che altri dovevano fare in mesi e mesi di lavoro, lui in tre giorni riusciva a farli, proprio cose, lui riusciva a vedere subito che cosa doveva fotografare e cosa non doveva fotografare, quindi aveva un'intelligenza, diciamo che l'opera non è la grandezza della foto, la foto è un altro, la realizzazione di quello che lui aveva visto che sia grande, come provvedo, che sia grande che da lui, l'opera è il momento in cui scatta e quella è l'opera, poi come viene realizzata è la più importante, ecco, queste sono le mie considerazioni da stampatore e da, e quindi diciamo che Luigi, quando, mi ricordo che le più grandi aziende italiane avevano capito che c'era un genio dietro di lui e gli andavano lavori, per cui tutti i debiti che aveva accumulato con me per esempio, con i tipografi qua, stava pagandoli tutti proprio, un attimo prima della sua morte si è seduto su un divano scassato che ho vinto in laboratorio e mi ha guardato e mi ha detto come stai? Dico io sto bene, e tu, dico anch'io, sto arrivando sulla collina, dico sono quasi in cima, dai, ce lo fai, perché 30 anni di debiti, 25 anni di debiti, ha venduto una casa, ha venduto una casa per la fotografia, quindi un amore come Luigi, io ho visto L'Olivo Barbieri che è un altro che ama bassamente la fotografia, ho visto Niedermeyer, Castella, Chiaromonte, tutti meravigliosi, bravi, grandi, eccetera, eccetera, ma con la potenza, la costanza e l'intelligenza di Luigi, mi dispiace, non lo trovo nessuno. Buonissima testimonianza, aveva anche aggiunto, mi comprenderanno fra vent'anni, sì, aveva ragione, siamo arrivati nel ritardo, ma sì, sì, sono tutti in ritardo. Bene. Vorrei, poi magari vorrete fare domande a chi interviene, parleremo anche tutti insieme alla Manica Lunga visitando la mostra, vorrei chiedere a Massimo Minini che poi parlerà ampiamente anche in mostra di fotografia di Paolo Mussazzartor, di Paolo Bellion, di Solsas, abbiamo tre torinesi in mostra. Personalità che io credo fosse giusto a questo punto celebrare e raccontare, perché insomma hanno avuto un ruolo molto importante nella storia dell'arte italiana, nella storia della città e anche di questa istituzione. e vorrei chiedere a Massimo Minini perché hai cominciato a lavorare con Luigi Dirich, cosa ti ha colpito del suo lavoro e perché pensi, insomma, sia un'assista importante? L'ho preso così, ma non posso. Lasciami dire che il rapporto che nasce con Ghirli è un rapporto che crea all'interno del mio mondo una serie di altri rapporti con delle persone che prima non conoscevo. quindi è una storia che nasce abbastanza improvvisamente un giorno di cinque o sei anni fa quando a una fiera di Bologna vengo avvicinato, per virgolette, da lui e quindi anche da lei. È una storia che mi porta, che porta nella mia famiglia, una serie di nuove acquisizioni umane. quindi vedo l'ingresso di Luigi come l'ingresso di tante persone che adesso mi sono cari, con le quali lavoro, e tra queste ovviamente Elena Ray Giovanni. ma anche voglio dire hello e ringrazio a alcuni amici che venivano dall'interno, perché questa storia non è solo una storia italiana, ma l'involuzione con Luigi ha fatto possibile avere una relazione con alcuni importanti membri, e tra i altri amici di Zurigo e di Mammarie di Londra, che sono qui e vorrei dire hello e ringrazio a tutti. e sorry for making this discussion only in Italia, but someone will translate probably, or will have occasion to translate a little bit afterwards. so, quindi ho conosciuto stasera Rigo Ghia ad esempio, che desidero salutare questo mitico personaggio il cui cognome è lo stesso radicale di Ghirri, per un caso molto curioso, e naturalmente non posso non dire e non ricordare che ho conosciuto Paola, alla quale mi legavano tante tante consonanze, tra le altre il fatto di essere nati io e lei, tutti e due, il 14 settembre, seppur in anni diversi, ma allora sono dopo prima io, ma non di molto in fondo. E poi Luigi mi ha portato una serie di relazioni, tra cui ad esempio un avvicinamento a Andrea Bellini che un giorno mi chiede di fare qualcosa, per la manica lunga, per Ghirri. Andrea a cui mi legano diverse storie, tra cui una in particolare che ogni tanto recitiamo reciprocamente, il fatto che amiamo la preistoria, è vero. Amiamo la preistoria, io sono nato in Valcamonica, in Valcamonica ci sono delle incisioni preistoriche straordinarie, tra i giacimenti più importanti d'Europa. In Valcamonica c'è una famosa mappa, la mappa di Bedolina, la mappa dei campi, che è uno dei primi esempi di geografia del mondo. La geografia e la mappa di Bedolina sono, in fondo, un fatto di geometria. La geometria nasce dalla misurazione dei campi, dai litigi dei contadini che litigavano per il possesso della terra. L'evoluzione della geometria dei contadini ce la danno i grandi geometri greci, che inventano tutti i grandi teoremi da Euclide a Pitagora. Mio nonno si chiamava Egidio Minini ed era geometra. Mio padre si chiamava Luigi Minini ed era geometra. E Ghiri, che si chiamava Luigi anche lui, ed era geometra. Quindi forse per tutte queste coincidenze mi sento parte della famiglia di Ghiri. Ghiri era geometra e cosa vuol dire questo titolo? Cosa vuol dire la parola geometra? È qualcuno che misura la terra. Il geometra misura la terra. Un giorno Luigi vide la terra dalla luna. Nel 69 l'uomo conquista la luna, andrà, stranamente, vede sulla luna. E Ghiri immagina, perché non è solo la luna, però guardava la televisione come la guardavo io. Io ero, ero un'estate, se non sbaglio, ero via Reggio, chissà dove era Luigi. E lui si immagina che dalla luna l'uomo vede la terra e cosa vede in mezzo? Vede tutte le immagini possibili ed immaginabili. Credo che lui abbia scritto lo spazio tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. E' riempito da una complessità infinita, puntini, puntini, puntini. E chiedo a Elia di smettirmi se ho citato male. No, ho citato male. Quindi nel 69 Ghiri rimane folgorato da queste immagini. La terra vista dalla luna non è solo la terra, ma è un'immagine che contiene tutte le immagini possibili. Naturalmente questa è una visione poetica, perché non è vero. Lui non può aver visto questo, può averlo solo immaginato, può averlo pensato, può averlo sperato. Questa sua visione mi richiama, siccome io faccio sempre dei doppi e dei tripli salti mortali, ne faremo qualcuno anche in manica lunga, ho pensato all'intervallo di Paolini. L'intervallo di Paolini è un'opera dove c'è una testa tagliata in due, una che esce dal muro di qua, una che rientra nel muro di là, ma il titolo è Intervallo. Cos'è l'intervallo? È il vuoto che intercorre tra le due teste. Così come l'intervallo che vede Ghiri con la mente è lo spazio che passa tra l'occhio di Armstrong, sulla luna e la terra. L'opera a questo punto non è pieno ma è vuoto. L'opera è l'assenza. Ciò che conta in fondo è il non essere ed è l'invenzione, l'invenzione poetica. Qualcosa che vedremo anche nel lavoro di Paolo Mussazzartoro, ma di questo ne parleremo nella manica lunga. Grazie. Grazie. Allora prima di andare nella manica lunga, facciamo l'ultimo intervento. Sarà un po' l'introduzione alle cose che andremo a vedere. Una parte delle cose che andremo a vedere è Elena Re, che farà brevemente l'introduzione della mostra e del lavoro di Luigi. Grazie, Andrea. Vorrei innanzitutto dire una cosa per me molto importante, molto sentita, che mi emoziona anche un po'. Vorrei dire che questo mio lavoro, che ho sviluppato a partire dall'archivio di Luigi, è nato grazie a un confronto diretto e quotidiano con Paola Ghirri, la moglie e la compagna di Luigi, compagna di questa avventura artistica ed esistenziale, dal 1974 al 1992. Dopo la morte di Luigi, Paola ha proseguito con il progetto di comunicazione del lavoro del marito. E devo dire che... Scusate, sono un po' raffreddata. E devo dire che Paola era molto così contenta di questo mio lavoro, di questo progetto che si stava sviluppando, dopo il castello di Rivoli, e aveva proprio il desiderio di vederne la realizzazione. Purtroppo non ce l'ha fatta, perché ci ha lasciati tre mesi fa. E in ogni caso, la sua memoria e ogni sua testimonianza sono stati, per me, fino all'ultimo, un riferimento essenziale. Per cui, a lei, vorrei dedicare oggi questa mostra. Parlando di Ghirri, vorrei ricordare che Ghirri amava spesso citare una famosa frase di William Blake, che recita appunto, «Se le porte della percezione fossero ripulite, tutte le cose apparerebbero all'uomo così come sono, infinite». Ecco, Ghirri ha fatto questo lavoro straordinario di regalarci uno sguardo per ritrovare l'infinito che sta nelle cose. Anche nelle cose più piccole, apparentemente anche banali. Ecco, con questo intento, Luigi Ghirri ha lavorato con tanta intensità, come diceva Enrico, a partire dal 1970, e quindi vivendo il clima dell'arte concettuale. Per arrivare agli anni Ottanta, per attraversare gli anni Ottanta, e quindi la cultura postmoderna, tutto il dibattito sul senso del luogo e del paesaggio nella scena contemporanea. Quindi Ghirri, in sostanza, ha sviluppato una ricerca espressiva sul tema del paesaggio concependola come un vero e proprio progetto opera. Sostanzialmente, la sua opera era un vero e proprio laboratorio del suo stesso pensiero. Era una questione essenziale, centrale. Ghirri, in sostanza, fotografava il suo pensiero in merito a una nuova idea di paesaggio. Ecco, nell'affrontare il lavoro di Luigi Ghirri, ormai sono parecchi anni, circa 12 anni, che approfondisco a partire dalla casa, studio di Rocco Cesi, questo suo lavoro straordinario. Ecco, nell'approfondire sempre di più il lavoro di Luigi Ghirri, man mano mi è apparso chiaro il fatto che la questione del pensiero e del progetto necessitavano un momento di approfondimento dedicato. Quindi uno studio che desse luogo a una mostra, a un libro, a una possibilità per tutti di accedere a questa parte sottile, eppure straordinaria, che è il regalo che Ghirri ci ha trasmesso. Ecco che quindi ho pensato di sviluppare questo studio. E quindi mostra, cosa troveremo? Troveremo l'espressione di questo suo progetto, questo suo progetto che attraversa varie serie, perché lui lavorava con il concetto appunto delle serie, aggregando e riaggregando le fotografie in infinite combinazioni, con quest'idea dell'ars combinataria, che poteva far rientrare in una fotografia, in un progetto, ma poteva farla ricollegare a un altro ancora, a un meccanismo molto complesso, ma molto forte, e che rende veramente esplicita la profondità del suo sguardo. Quindi si mette in scena un progetto, in manica lunga, è un progetto che viene presentato attraverso queste piccole fotografie, che sono le stampe a contatto, che Arrigo realizzava per Luigi, perché Luigi poi le ritagliava, le metteva in fila sul suo tavolo da lavoro, componeva le serie e appunto le incrociava, le ricomponeva in infinite combinazioni. Per cui sulle pareti della manica lunga avremo queste sequenze di piccole fotografie in miniatura che raccontano le principali ricerche espressive di Luigi. Ma sulle pareti avremo anche proprio le sue scritture, i suoi pensieri. Infatti ho pensato dagli scritti di Luigi di selezionare alcuni brani che introducessero ogni singolo approfondimento. Ghiri non era certo uno scrittore, ma all'interno dei suoi testi noi troviamo l'essenza della sua poetica, un vero e proprio testamento di poetica sono i suoi scritti. E poi ancora ci sono le teche nella manica lunga. All'interno delle teche ho voluto mettere le macchette, gli oggetti, i documenti. Come diceva Andrea, la questione del documento è un aspetto essenziale, importante, proprio per testimoniare, per sottolineare la profondità della ricerca espressiva, della storia che sta dietro all'opera, dell'opera che si fa storia. Insomma, quindi la maquette è qualcosa che è a cavallo tra questi mondi e che quindi abbiamo cercato di portare qua in manica lunga. Sostanzialmente, ora non voglio anticipare altro per non togliervi il gusto della scoperta e della visione. Vorrei solo ricordare che l'occasione di questa mostra mi ha permesso appunto di completare uno studio che ora è in corso di pubblicazione con l'editore Ringer e che presto avremo l'occasione e il piacere di presentare. In ultimo, vorrei dunque ringraziare Andrea Bellini per aver voluto con forza e determinazione questa mostra all'interno dell'offerta espositiva da lui curata, ma vorrei anche ringraziare Beatrice Merz e vorrei ringraziare con un grazie particolare tutti i prestatori che hanno reso disponibili le loro opere, le opere di Ghirri per questo progetto e ultimo ma non meno importante, tutte le persone che con la loro collaborazione, lavorando insieme a me, hanno reso possibile questo progetto. Grazie di cuore. Grazie.